Ed eccoci a bordo della nuova imbarcazione di Bavaria Yacht, è il 42 Vision. Vision perché ha una tuga abbastanza pronunciata, dalla quale poi dentro si vede benissimo fuori, una sorta di Dexalun, chi la chiama Vision, chi la chiama Dexalun. La particolarità di questa barca, come si vede qua subito, è questa entrata asimmetrica, ovvero il tambuccio spostato sulla destra per permettere una zona conviviale più grande e più flessibile rispetto alle altre imbarcazioni. Questo tavolo si apre, si abbassa anche e si sposta per trasformarsi in un immenso prendisole. Qua diventa tutto una zona di cuscini nel quale potersi sdraiare. È un 42 piedi, ha due ruote del timone, quindi lascia libero il passaggio da popa a prua. Qui le panche sono comode, si timona in modo molto confortevole. Vedete, qua ci si può mettere così, ci sono gli strumenti, il winch a portata di mano e si ha anche ancora una buona vista sulle vele di prua e sull'orizzonte, sulla nostra meta. Ma andiamo a vedere a prua perché ci sono delle sorprese anche lì. Ecco, siamo sulla tuga, le rotaie del Genoa sono incassate e lasciano libero il passo avanti, il passaggio che corre da prua a popa. Le lande sono a murata, quindi il passaggio è bello sgombro. E la tuga, come vedete, ha gli oblò di passauomo a filo, quindi ci si può sdraiare. Le drizze corrono per buona parte, non tutta, ma buona parte incassate in un carter sottocoperta. E qui c'è il vetro che dà luce agli interni. E qui a prua c'è il gavone dell'ancora con il verricello incassato e un grande pozzo per la catena. Ma questa barca ha delle grandi novità, anche sottocoperta, soprattutto. E quindi adesso vi portiamo giù a vederla. Venite con noi. Ed eccoci a bordo del 42 Vision, il nome Vision perché, come vi dicevamo prima, ha queste grandi finestre che vi fanno vedere fuori quando siete dentro. Quindi uno può restare dentro se magari è brutto, sta navigando, e comunque continuare a guardare il panorama fuori. Qui c'è il solito divano con il tavolo per mangiare, ante ribaltabili, quindi il tavolo si amplia. Un'altra bella novità è il carteggio. Ormai non esistono quasi più i carteggi fissi, come una volta. Tutti i tavoli o si spostano, scorrono, si alzano. Questo in particolare si abbassa. E adesso vi facciamo vedere come. Poggio un attimo il microfono. Si tira questa cinghia e il tavolo si abbassa. Ecco qua. Si è abbassato. Qui ci sarà sicuramente un altro cuscino da mettere qui. E questa zona, quando non si carteggia, non è necessario, non si è in navigazione, diventa un bel divano tutto unico. La cucina, come vedete, è bella grande. Ci sono dei ampi piani di lavoro. Un frigorifero veramente notevole. Qui dentro ci si può stivare cibi e bevande per una crociera di un mese. Adesso lo prendiamo senza lasciarci le mani. Ecco qua. A poppa c'è la cabina degli ospiti che, come vedete, in mezzo ha un settore che si può togliere per dividere due letti e lasciarli due letti singoli. Oppure, come in questo caso, un grandissimo letto matrimoniale. In questa versione, ovviamente, c'è una sola cabina, quindi questa qui diventa molto più grande di quanto sarebbe se fossero due cabine. Qui dentro il bagno, ovviamente enorme anche lui, perché con una sola cabina a poppa assume dimensioni gigantesche. Guardate che altezze che ci sono qui dentro, come anche nel salone dove eravamo prima. ma le sorprese non finiscono, perché qui c'è un altro gavone enorme. Questo sarebbe il posto della terza cabina, nella versione che lo prevede. In questo caso non c'è, il gavone è accessibile ovviamente anche dal pozzetto, là giù si vede. Che dire, c'è posto veramente per tutto e per tutti. Niente, direi che dal Bavaria Vision 42 è tutto, ci vediamo a bordo della prossima barca.